Con la porta d'imbarco sull'altro lato dritto abbiamo un porto libero meno di mezzo metro, cambio. Sul loro lato dritto dobbiamo andare a vedere come è. Contagli il faro, Simo. Abbiamo ricevuto, stiamo sfidando la situazione per capire dove conviene per il mare. Qui siamo dove? Ok, ricevuto, ricevuto, siamo qui, noi stiamo in comune.